A conclusione della riunione dell'unità di crisi, ho firmato l'ordinanza che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza, così il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della Regione, viene disposto l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, sottolinea De Luca, a maggior ragione con l'apertura delle scuole. Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore. I sintesi, i concetti dell'ordinanza sono questi. Sono ulteriormente confermate le disposizioni di cui all'ordinanza regionale numero 66 dell'8 agosto 2020, concernenti l'obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico ed impedire l'ingresso contattando il Dipartimento di Prevenzione dell'Asla competente laddove venga rilevata una temperatura superiore ai 37,5 gradi. È disposto l'obbligo su tutto il territorio regionale di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settori vigenti, ad esempio per le attività di ristorazione barra sport all'aperto. L'obbligo rimane escluso per i bambini al di sotto dei 6 anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e sportiva. È fatto obbligo ai titolari di esercizi commerciali, culturali, ricreativi o comunque aperti al pubblico o non all'aperto di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei locali di esercizio e di assicurare la presenza di un dispenser di gel o soluzioni igienizzanti, subordinando l'accesso ai locali alla previa igienizzazione delle mani e al riscontro della temperatura inferiore ai 37,5 gradi. Si richiamano tutti gli esercizi gestori ed utenti alla stessa osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza al fine di rendere tempestiva la corretta ricostruzione degli eventuali casi da contatto stretto, vi è l'obbligo della identificazione di almeno un soggetto per tavolo o per gruppo di avventori attraverso la rilevazione e conservazione dei dati con idoneo documento di identità.